Questa notizia non so bene come gestirla, perché quando si parla di Vince McMahon il mio livello di guardia sale. Però la fonte è Fightful Select, che di recente ci sta prendendo con una certa consistenza. E cosa dicono? Eh, dicono che Alexa Bliss reportedly told, quindi avrebbe detto a Vince McMahon, di essere infelice con il comparto creativo della WWE. Qui c'è anche la spiegazione. Alexa sui social da tempo sta lasciando intendere che non è contenta. La WWE ha mostrato, attraverso dei video, il suo recupero mentale con le sedute dallo psichiatra, che si sono tramutate poi in una partecipazione all'Elimination Chamber Match, a cui ha fatto seguito il nulla. Quindi il report, che cita Fightful, il report dice che per la Bliss si prospettava un'intrusione nella rivalità tra Becky Lynch e Bianca Belair. Ma questa idea, che effettivamente sulla carta mi sembra un po' confusa, è stata accantonata dopo che sono state mandate in onda, appunto, le sedute di recupero mentale di Alexa. Un'Alexa che sarebbe un po' frustrata, e lo avrebbe fatto capire in maniera chiara, perché nell'ultimo anno e mezzo il Creative WWE non le avrebbe proposto nulla di significativo. E addirittura Fightful dice che, da quanto è stato raccolto da altri wrestler, la discussione che è nata nel backstage tra la Bliss e alcuni dirigenti, si sarebbe poi spostata addirittura tra la Bliss e Vince McMahon. Quindi sarebbe diventata un affare tra i due. Perché questa notizia è complicata? Perché è verosimile, cioè che Alexa possa sentirsi in una zona d'ombra in WWE, è chiaro. Ha ereditato la Gimmick, il personaggio del maligno, difficilissimo. Questo personaggio da gestire, ha avuto i superpoteri, poi è tornato il pubblico, hanno dovuto diminuirli, anche la presenza della bambola Lily è stata cambiata. Però, d'altra parte, la Bliss, nelle ultime settimane, forse negli ultimi mesi, è sembrata con la testa maggiormente interessata all'addio al nubilato prima e al suo recente matrimonio. E visto che le rivalità in odore di Vrestelmania si sono decise praticamente già dopo la Royal Rumble, quindi Charlotte Flair contro Ronda Rousey e Bianca Belair contro Becky Lynch, e le altre vetrine femminili erano sostanzialmente una sola, cioè quella dell'incontro valido per i titoli Tech Team, beh, immaginare un'Alexa protagonista a Vrestelmania o dei primi mesi dell'anno sembrava assolutamente inappropriato e fuori dalla logica. Quindi cosa si poteva aspettare dalla Creative WWE per quanto riguarda questo periodo, nel quale c'era anche il suo matrimonio? Beh, non lo so, non so come prendere questa news. È un rumor? È una deduzione? È successo davvero qualcosa? Non lo so, però è una cosa forte. Ripeto, la fonte è importante, quindi a questo punto ve la metto in tavola e lascio a voi decidere quanto crederci. E a questo punto ditemelo, se ci credete o no, qui sotto nei commenti.